Abbiamo fatto la porzione magica di cipolla cotta, frullata, 5 minuti, 6 con una cipolla bella grossa con mezza bottiglia di vino quando avete fatto tutto, prendete la chiede di frigo, io come lo faccio altra parte ho messo il riso carmaroli a velocità 2A, che è la velocità che ci permette di avere una macchicatura senza distruggere tutto quanto, che non bocci con circa 3 volte di brodo ovvio che sono fatto con l'acqua ovvio che non può mettere l'acqua perché, per farvi vedere la potenza di questo lui lavora per induzione come se fosse una piastra di induzione è per quello che è così rapido ed è per quello che è sulle lunghe culture per esempio per i punti di cultura c'è un risparmio energetico rispetto alla classica famosa serpentina delle nostre proposte e poi se ne saranno sono le bimbi anche le deco, eh andrò aspetta, sono andato dei buchi sensori e così inizioso le biondere in fondo che ti deco se sei le bimbi sto prendendo in giro ognuno giustamente fa la sua scelta io lo spiego a mio modo se ne riesco a fare così anche perché poi lo uso personalmente nei ristoranti lo cominciamo anche perché abbiamo Magilix anche la mia auto mega professionale che è Robocop che sono i coperti famosi del mondo che sono le bestie lo zio funziona molto bene ma io voglio farvi vedere se lo riusciamo a mantecare in questo modo lo riusciamo a mantecare quando ancora non è proprio cotto che forse è molto complicato perché si senti che non è proprio non è proprio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti